Allora questa è la Sporti del Griso, finalmente la vediamo dal vivo. Ecco, lui è il Griso, finalmente lo vediamo. Lui è Lorenzo. Come il mostro di Loch Ness. Tutti sanno che c'è, dove lo trovo nessuno lo vede. Ecco lo spettacolo qua degli SRI che si sono ritrovati a Somba Campagna. Un sorriso per il TG. C'è tanto arancio, tanto arancio oggi. C'è dell'arancio. Veramente tanto arancio. Vero Ale? Un po' di colore. Finalmente un po' di colore. Ma il nero non disturba, vero? Sempre carino. Fa sempre la sua porca figura il nero. Qua abbiamo Stardust. Stardust. Allora lui oggi vince una 883 per la distanza più lunga. Cioè lui viene da Oderzo, il nostro Jebbs, e si è fatto già 180? 200. 200. 200. Ottimo. Direi lei è la miglior passeggera della giornata. Non che è una. Anche perché è da sola. E vincere è facile. Ma la uscita almeno con la moto 4. letta è ovine con la moto. La fatta uscita. Lo fatta délico. Ok. E quipone tutto il suo risve slope.